Signori e cari, ok non abbiamo tempo di parlare quindi un attimino ci apriamo la nostra bella grata e andiamo a fare una bella introduzione però al sicuro sempre sperando che... oh cazzo no, è pieno di zombie anche qui Facciamo pausa, facciamo pausa signori e cari ho ripreso il nostro appuntamento ormai quotidiano col President Evil direttamente da qui perché mi sono fatto un giretto a raccogliere un po' di roba per non tediarvi con degli avanti e indietro ho raccolto quello che c'era qui ho lasciato lo spray nel bagno perché tanto dovremmo ripassarci però forse ho fatto una cazzata perché io qui vorrei tornarci il meno possibile dato che abbiamo fatto tutto appena lo zombie tornerà al suo posto sperando che torni nell'ufficio all'Aest me lo vado a recuperare comunque detto questo ho fatto qualche giretto appunto siamo messi abbastanza bene punto uno, una chicca adesso non so se ve la metterò in montaggio perché sinceramente era inaspettata però avendo messo il sound originale io vi dico solo che quando si avvia il gioco ebbe, ebbe, c'è una bella chicchetta ma avremo modo di vederla insieme, di goderla insieme altra cosa niente, mi sono accorto in montaggio che in quel poster dentro la saletta ne avremmo già parlato nei commenti sicuramente non era Chris quello che era in foto, era Brad cazzo ma là è Marvin? quello là non credo questi due zombie ci romperanno le palle sicuri sei scema? ma che cazzo urli? non c'è la cassa non c'è la cassa oh merda il gioco B comincia comincia pronti via con te ragazzi non c'è la cassa bene, la cosa si complica molto più del previsto oh cazzo oh no dimmi che l'hai messa qua come nell'originale ma assolutamente no ah ragazzi sarà molto più complesso sicuramente molto più del previsto oh mio dio no 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 sì quella è Marvin e qua ci vuole la picca no ragazzi siamo fottuti questi a quanto ne so dovrebbero essere diversi sinceramente non mi ricordo questa cosa che era di statua il leone il leone non si capisce un cazzo il leone non si capisce un vero tubo unicorno no è solamente ah aspetta l'ultimo è l'uccellino del cristo l'ultimo dovrebbe essere questo eh sì vabbè ma c'è anche farli così non ecco i bambini ok no è un casino fatti così no hanno cambiato merda ma c'è pieno di zombie gioco b un figlio di puttana volevo andare a vedere quella porta ma dovrebbe essere picche anche quella proiettili ne abbiamo ma adesso che abbiamo un po' abbracciato il discorso del risparmio capite bene che oh 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 t'acquino oh oh la pagina mancante ce l'abbiamo ok abbiamo la dea che però è là dentro dal c4 questa è strappata e c'è un pezzettino lì sotto non si capisce un vero tubo sarà ben più complesso ragazzi questo gioco b anche perché adesso ci sta chiedendo di andare in faccia al leaker e mi hanno tolto questa cassa che brutto tiro che mi hai fatto e io ho appoggiato le barricate ragazzi munizioni acide e beh questo lo faremo sicuro per il lanciagranate allora che il gioco sia ben più bastardo del gioco della versione A sono felice ma guardalo come nel classico però noi sappiamo che tu non hai proiettili no noi sappiamo che sei cieco se non fai casino sei anche un po' stronzo quindi sai cosa non averle barricate qua non facciamo rumore non averle barricate è un problema le ho appoggiate per farmi spazio non pensavo non pensavo che sarebbe stato così diverso così bastardo sto cagando ragazzi la tensione rinizia siamo al punto di partenza ma ne sono felice ok ok un po' di proiettili ma allora l'hiker sappiamo che non possiamo neanche toccarlo con queste armi cioè è una roba assurda rapporto sì questo lo sappiamo già del signor Ford il preferito di Baudi abbiamo la mappa camera oscura io sto sperando che la camera oscura possa essere oddio ho appoggiato anche questa ma quanto posso essere stronzo nella mia vita andiamo alla camera oscura se no siamo tagliati fuori ok l'obeso c'è fammi capire avanti sinistra armadietti un po' più in là camera oscura come i vecchi tempi merda dormi 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 ok questa musica già mi fa stare bene benefici delle piante lo sappiamo già no problem accendiamo la luce questa musica ci fa stare bene vai giù e vai giù e vai giù oh mio dio porca vacca ma bastardissimo ragazzi c'è cominciato cominciato i 2000 questo questo gioco b porco vai giù vai giù e stai qua però godo mamma mia come mi è piaciuto spero che mi stia piacendo allo stesso modo perché davvero a me sta conquistando mi da un po' fastidio che anche in questa parte b non ci sia cura per la zona nelle strade che non è non è esagerata anche nel classico perché alla fine uno che viaggia un po' la fa in un battibaleno però qua veramente molto molto trascurata non mi riempie di gioia questa cosa allora mi riprendo le barricate mi riprendo le barricate di avercel'avuta subito secondo me allora non sei alle mie spalle dai giura ok ok e ok lui è lì io qua la metterei io qua la metterei ne erano entrati altri non mi ricordo lui è già dentro proviamo dai sperando non sia stata una stupidata oddio buttati giù tu buttati buttati giù buttati giù ti puoi buttare dai l'hai fatto nel gioco ah ma perché devi fare la zoccole senti senti che sound senti quanto godo si è resettata ma che e niente scendi anche tu ragazzi cerchiamo di giocare d'astuzio abbiamo qualche coltellato cioè un coltello e diversi colpi però andrebbe anche ripulita un po' la centrale perché la goduria di ritornarci con la zona pulita in Leon A è stata una sensazione epica però però io ho paura sempre che vado a finire alle mie spalle ok le le safe room resettano quindi quello è sicuramente il nostro punto a favore che andremo ad utilizzare stiamo trovando comunque pochissimi colpi cioè ce ne ha dati tre tu stai lì se vuoi buttarti giù ben venga le serrature mamma mia senti che sound bruzzo le serrature sono le stesse quindi qua porca puttana questo ancora a distanza cosa di 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 tottora ancora mi ha fatto cagare in mano questa era cap mi ricordo ragazzi mi ricordo cose inutili nella vita ma in questo momento è stata molto utile bene due incendiari ne abbiamo già quattro madonna portagioie qui la cassetta di sicurezza non c'è mi stai dicendo che è dentro il portagioie tu non stare su però non è che se il gioco b fa il filo di puttana e qua abbiamo ripulito la scala non è pulita dobbiamo guardarci intorno anche di te non mi fido sai e qua andavamo qua andavamo già dalla stars siamo già pieni ancora manca una gamba tu sei sano come un pesce e l'hiker ok sei se tu mi avessi messo una bella cassa qui dalla stars guarda ma non penso proprio mio dio ma quanti incendiari mi stai dando senti mamma mia queste musiche ragazze vi romperò le palle per tutta la run lo sapete già lo avete intuito ah qua c'era la lettera di Chris la troviamo subito nota di Leon questa è nuova Claire spero che leggerai questo messaggio questo posto invaso dai mostri e tuo fratello non sembra essere qui ora pensa solo a scappare da qui mi auguro con tutto il cuore che tu stia bene Leon potevi anche mettere tipo ti lascio uno spray medico un po' di cartucce della scrivania di tuo fratellone non dici niente il classico dicevi che era disordinata comunque cioè le musiche ascoltate queste cazzo voi la smetto ascoltate le cazzo di musiche di un tempo e ditemi se non sono ancora oggi fantastiche comunque Claire B o che è stra difficile a livelli assurdi e a prescindere ti riempiono di roba o altrimenti Claire A è veramente molto più semplice di Leon B di Leon A scusa la batteria per il detonatore circolare interna 9-15-7 queste sono identiche era quella dell'ufficio alla ovest primo piano che è questo no alla ovest ah si si la da Leon company ma tanto non abbiamo le chiavi guarda volevo partire un po' più ripulito per snellire un po' la nostra il nostro bagabondaggio ma ragazzi miei cari no ragazzi ma è già qua cioè io mi devo fare tutta tutta la stazione di pulizia con te alle calcagna si ma zio madonna vabbè comunque adesso diciamola tutta è molto più difficile del classico poi mi dici anche da dove sei passato eh mister x dopo me lo dici dai perché queste robe qui fanno un po' ridere aspetta va che intanto tocchiamole che mi dice ecco queste cose non dobbiamo tralasciarle perché meglio lavoriamo adesso e più saremo tranquilli unicorno unicorno abbiamo qualcosa la dea pezzo di car unicorno ci abbiamo sì lo possiamo fare è qua sotto guardalo eh bambini serpente era sono già dimenticato ragazzi cioè la tensione è bilancia bilancia ok eh non ho posto quindi lo lasci qua cioè ma veramente ma veramente ma veramente può essere così pesante niente facciamo avanti adesso qua ci mancherebbe anche il leaker che cos'è bestemmio mi sembra di aver visto i proiettili sbaglio e ci ho dietro il nostro amico The Rock io Cristo sei guarda sei veramente no no quanti colpi ho sparato di grazia porca puttana tre colpi ho appena sfiorato il grilletto ma questa me li mangia tutti ma dio santo ma ma quanto può essere complesso quanto allora ragazzi cominciamo a bestemmiare un po' ma si dai ma che cazzo ce ne frega noi bestemmiamo eh bestemmiamo bestemmiamo ragazzi tutti insieme tutti insieme che bello doveva essere un momento di felicità invece siamo invasi dai mostri porca vacca allora allora le cesoie è il problema che questo adesso ce l'abbiamo dietro al culo ma per sempre ragazzi è già arrivato io anche prendermi su le cesoie cosa è stato ah ha dato una sberla allo zombie eh no ma sti zombie dobbiamo ammazzare un po' zombie dobbiamo ammazzare non voglio sparare tanto fermati dormi eh resettati e va via addio c'è sua sorella crepa ti prego ok addio quanto 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 difficile devi essere allora se torniamo su qua c'è ogni ben di dio io direi ci facciamo qualche viaggio ripugliamo però mi dispiace farvi perdere magari ve lo taglio a meno che non succedano cose bizzarre so che mi dite eh vabbè ma è nell'anima di resettivo non ci dà fastidio però in realtà è un po' una rottura dai dai ma mister x pronti via però è da figli di troia posso dirlo su dai diciamolo vado a recuperare la roba e va di sopra che cazzo fate che cazzo fate Gianni e Pinotto ma cosa fate andate via e lui va e questo va in casa dove vai dove vai ciccione di merda levati dalle palle no porca puttana ragazzi le rina poi sei tanto caruccia se ti mettono le mani addosso mi dispiace boh no 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 vabbè corriamo dalla stanza ce l'abbiamo dietro quello che era lassù dove minchia ah guarda dov'è guarda dov'è invece che la magnum c'è un uzi è un uzi sarà intenibile quell'arma lì dispenserà talmente tanti proiettili che ci mangerà tutte le riserve e niente io comincio a ripulire da qui e pian piano one two qua c'è il tesoro che sofferenza cioè io non me l'aspettavo così il gioco ma cioè questo gioco ragazzi cos'è che ci ha fatto dire ah ok si me l'aspettavo a parte le cose magari di trama che ci stanno e non potevano cambiare ma a parte quello cioè io ripeto questo gioco è stato ideato proprio per fottere i vecchi player come me ancorati un po' alla tradizione l'ufficio stars non è ancora azzurro perché dobbiamo prendere quella mitraglietta dobbiamo fare i narcos con quella lì adesso ho un posto ancora no quindi torniamo giù e lui è qua fa un po' ridere questa situazione cioè a me farà sempre io devo venire di lì zio se puoi andare dall'altra parte dove va mi ha sentito perché mi ha sentito perché fai così ha preso contro uno zombie si è spostato quello delle scale e infatti adesso lo sento di qua io merda sta arrivando sta facendo un giro che solo lui sa merda è qua porca puttana vabbè ragazzi non ce la posso fare vabbè io ormai c'è una certa età non posso farmi venire un infarto così per l'aria che tira no cioè sai no facciamo facciamo sai no porca troia questo è piuttosto duro allora proviamo a fare qualche esperimento intanto per vedere allora abbiamo detto che se io faccio combina con questo mi dice acido se io faccio invece combina con questo mitragliatrice a casa mia un tempo i colpi acidi sarebbero stati la cosa più performante per quanto riguarda il giocare con Claire dato che qui il gioco ci sta prendendo in giro dall'inizio alla fine penso che potrebbe percularci ancora una volta devo prendersi le cesoie cosa ci rimane da raccogliere qualche robina qua in giro e un bordello di roba qua più una piantina rossa che era dietro lo zombie dalle scale quindi un altro giro dobbiamo fare ragazzi perdonatemi ma è quello lì dove cazzo va ammazziamoli dai ammazziamoli leviamoci dalle palle perché se no qua non ci muoviamo però vieni qui a morire ok no vai via vai via utilizziamo il coltello più che possiamo ce ne teniamo un briciolino tanto per usarlo come prima che si rialzi te ne puoi andare dalle palle torca puttana mi vede tedioso tedioso che sei sei tedioso così è un ninja proprio può far rumore continua a picchiare la gente guarda che è arrivato anche l'altro ok merda si sta rompendo si sta rompendo ammazziamo anche lui questo qua prima o dopo ci rompe le palle dai porca la puttana sei un obeso vai via ma che cosa l'hai pestato dimmi che gli hai pestato la testa tipo no porca troia che sverlone ma ammazzalo fammi sto favore almeno in nome della nostra prima run c'è da impazzire almeno sei carino guarda guarda ragazzi le donne cioè ma un po' tutti i personaggi le risenti il problema non sono i mostri i veri mostri sono queste sono queste persone qua e questa qui è un mostro cioè sta demolendo tutto una ragazzina di 20 anni sta distruggendo una città in base da della merda questo è il vero mostro oh se non ti levi dal cazzo però io non riesco a giocare non riesco a fare video cioè che braccialettino hai un po' esagerato però stai facendo un po' troppo pressing merda è stato su è stato su il figlio di troia eh guarda dov'è niente basta almeno abbiamo liberato qua possiamo andare anche al terzo piano ma io preferisco andare step by step quindi raccogliamo le cose come avevamo prefissato e rendiamo azzurre le stanze bene adesso stars sarà la nostra nuova safe room ho sempre paura però amen io ho paura anche andare là perché se poi lui arriva mi devo buttare in biblioteca non sappiamo che cosa ci aspetta ok è qua in biblioteca e qua è azzurro guarda è un affanculo obeso adesso apriamoci la scatolina in tutta sicurezza molto più strategico mamma mia molto più sì non rompermi le palle ecco a livello estremo cominciare da un gioco B che non è possibile giustamente infatti ma anche in base alla tua esperienza cresci di difficoltà perché tu sei più bravo però sarebbe veramente stato difficile così frustrante forse statua del leone quindi io avrò le combinazioni tramite rullino la cosa non mi rende felicissimo un'altra cosa che potremmo andare a fare no perché era nella demo che su al terzo piano provavamo un borsello continuo a confondermi parlo un po' piano ragazzi perché mi son portato tardissimo come al solito perché far tutto è un casino però avevo voglia di giocare perché comunque dio santo e allora mi son messo qui oh stato del leone corona fuoco e uccello il leone era l'abbiamo visto è la è il leone è quella normale qua no nell'altro principale ho sbaglio vabbò adesso questo io potrei anche tenere che lo appoggiamo tanto che facciamo dei giretti li mettiamo giù ebbene che stiamo mi prendo le cesoie perché intanto siamo stati bravini e mi prendo anche questa per poca roba che possa fare una barricatina io provo a darla ragazzi ma che pesantone andiamo sul terzo piano proviamo dovremmo farlo tutto camminato questo voltro lo sapete sta già tornando indietro questo qui comunque non so io non so quali portali stia utilizzando avrà la portal gun sicuramente perché ok qualche colpo già vedi che i colpi calano alla svelta ok questo era il devil maker ragazzi figlio di merda mi sono cagato in mano dovevo avere sangue freddo intanto usare la portal gun non posso combatterti qua se arriva Mr. X ok arrivato a posto siamo nella merda dov'è? si è buttato giù? allora devil make cry era questo devil no non c'era la M era qua la M vabbè ragazzi no la chiave cristo ok tutto azzurro non ci vado neanche è qua ce l'ho dietro la puttana che sei ok usiamo usiamo questo vai 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 corri no dov'è? no sei sei guarda sei ingiusto sei veramente ingiusto sei veramente ingiusto come una merda sei veramente ingiusto come una merda ovviamente cure non le abbiamo però abbiamo liberato un posto quindi intanto però non abbiamo la possibilità di guardare bene le cose con tranquillità e il nostro coltello è andato ragazzi porca puttana che scemo devo prendermi su questa allora prendiamo un po' di vantaggio perché se dobbiamo combattere contro lo zombie che è volato giù non facciamo neanche troppo casino dai e via la prima cura vabbè ragazzi stiamo scherzando stiamo scherzando o sbaglio porca vacca questa città lo scudo me ne tengo spiace aspetta che mi prendo almeno le pensavo di tirare un po' il fiato andiamo sulle un b ma tanto siamo bravi siamo qui sì stiamo giocando bene perché alla fine dei conti cioè non è che puoi fare più di totte adesso adesso io andrei in questa zona questa sarà eh no devo andare sopra devo tornare sopra e andare a quella cazzo di chiave la chiave è la chiave è importantissima qua possiamo anche evitare perché c'è sicuramente ancora qualcosa ma ci dovremmo tornare ma qua mi dice che è aperto è già stato aperto il c4? no perché ho la batteria ho la batteria devo tornare su e adesso qua ci sono due zombie ragazzi ma lui è sempre qui eh il fatto di non avere un coltello forse che non ci convenga andare nella sala armadietti guarda non mi aspettavo che sarebbero stati così lenti e tesi questi questi gameplay del eh ma nella sala armadietti lui entra io come faccio scusatemi ditemi un po' sono straindeciso cioè questi non muoiono con la pistola non muoiono quello era più ferito sicuramente ma perdonami l'altro non ha sentito i colpi cioè non ha sentito gli spari ma davvero no ancora non farmi girare dalla dalla biblioteca perché non mi va devo tornare a prendere il mister raccoon da fuori che casino ragazzi che casino beh quello ci torno poi nel senso faccio una missione suicida vado fuori uso tutti i colpi tutte le armi appena abbiamo qualcosa di potente prendo il mister racconto e ricarico tanto rimane in memoria speriamo teoria vedi adesso io c'ho la curiosità di andare qua a esaminare solo che mi cago in mano perché so che quello là arriva e se mi arriva da questo lato devo rifare quello che ho fatto prima cioè rischiarla non capisco neanche se sta arrivando da qui o da là ah questa è rossa dimmi che sei questa cazzo che cosa hai aperto no non è questa vaffanculo anche te qua c'è del girotondo da fare ok ancora rossa no c4 lo dobbiamo mettere vedi e lui è qua note di uno sconosciuto fanculo con gli stronzi dell'amministrazione mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro e va bene vorrei dire che mi divertirò sì questo l'abbiamo già letto non sfondi non sfondi no continua a prendere anche al day one al day one quando l'ho giocato la prima volta con voi merda no piano no piano un cazzo stars meglio la stars meglio la stars ragazzi meglio la stars usiamo la testa non c'è la cassa non c'è la cassa ma va bene così va bene così mamma mia che spettacolo che gioco incredibile venga non ti faccio neanche con l'arbi al cappello guarda l'obiettivo ce l'ho già e va di lì madonna ma va di lì e se io vado dal lounge ho la biblioteca però posso scendere e se questa è chiusa questa è chiusa ma in teoria dovrebbe essere picche che dite ci proviamo dovrebbe essere picche quella picche c'era allora picche c'era questa qui sicuro questa qui sicuro e questa qui una volta riaperta questa zona qui c'erano i fiammeggianti ma questa è una safe zone e c'è anche una bella cartina per prenderci un'arma proviamo ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato tutto nella vita che cazzo che cazzo di danno andiamo subito nella safe room carica buttati giù brava troia no si butta godo il critico fammelo un regalo gioco i colpi sì abbiamo un sacco di colpi di questo gioco sì 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 questa era aspetta che mi ricordo però aspetta un attimo apriamo questa questa qua era quella del nove aspetta mi piace che commenti un po' quelle cose questa qua era quella mi ricordo sarà la nove nove quindici sette uno due tre quattro cinque sei sette otto nove uno due tre quattro cinque sei sette otto due dieci undici dodici quattordici quindici uno due tre quattro cinque sei sette sbagliata l'altra io non me la ricordo l'altra io non me la ricordo era tipo sette undici c'era l'undici ma cominciava a sinistra questa left no niente ragazzi guardo un attimino taglio e guardo un attimino ok dato che queste cose ci dobbiamo avvantaggiare sono rimaste identiche ho dato un'occhiatina questa era la sei due undici l'undici me lo ricordavo dai uno due tre quattro cinque sei uno due uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici yes caricatore caricatore per cosa jmb hp3 cos'è che cos'è scusami mi sai dire che cosa sarebbe sta arrivando qua ma va a fare in culo pezzo di merda ho preso il libro però guarda nel male nel male non tutti i mali vengono per nuocere e se avesse il torta gioia che bello eh si sta ceppa scettolo di sailor moon intanto mettiamo lì che mi sono segnato comunque le combinazioni sto sto per collassare ragazzi già penso che mi dispiace il nostro gameplay il nostro world true finisce qui ma per sempre adesso vendo il gioco vendo la collector tutto non ne voglio più sapere un cazzo di leaker e quel bastardo di mister x che mi ha sfondato la porta ok queste cose sono da fare forse un po' prima ma se non abbiamo la chiave come cazzo è possibile e ovviamente non abbiamo salvato signori il prossimo appuntamento ci sarà da divertirsi questo Claire B mamma mia